Se ti rende insicura o se ti denigra, se ti umilia o se ti fa male fisico, se pretende amore o sesso quando tu non vuoi, se la sua gelosia e le sue molestie sono assillanti, se ti minaccia, se ti controlla e ti isola, se limita la tua indipendenza economica, se ti spaventa, se ti telefona di continuo per insultarti, se minimizza la sua violenza o ti chiede l'ultimo appuntamento. Questo non è amore. Chiama il 1522. Non sei sola. Esci dal silenzio.